La La quinta festa di liberazione in programma in piazza 4 giornate il 28, 29 e 30 di questo mese. Questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Sandro Fuscito, capogruppo della Federazione della Sinistra, nonché dirigente nazionale di rifondazione comunista. Ritorna la festa dunque. In un'epoca in cui si pensa che i partiti siano tutti uguali, che siano delle generiche associazioni a delinquere, con la pochezza dei nostri mezzi di un partito sbattuto fuori dal Parlamento, ma con l'entusiasmo di uomini e donne, di giovani, di militanti, noi ricostruiamo un appuntamento di tre giorni. Sottolineo che forse siamo gli unici a Napoli a proporre una festa politica di tre giorni, anche in questa stagione, in queste settimane. L'occasione per discutere, innanzitutto per ricordare i valori costitutivi della nostra Repubblica, le quattro giornate di Napoli e il luogo anche simbolico e piazza quattro giornate nell'imminenza della intestazione dello stadio, lo stadio della liberazione. Mostra sulle quattro giornate e la giornata del venerdì che si interroga sul futuro... Veniamo agli appuntamenti qualificanti. La giornata di venerdì si interroga sul futuro politico della sinistra e dei lavoratori, un dibattito con Vittorio Agnoletto, leader del movimento dei movimenti, ma la FIOM, i lavoratori, Gianni Rinaldini e ancora SEL con il quale noi non rinunziamo ad avere una interlocuzione e il sindaco di Napoli per chiedergli se egli e la sua iniziativa politica può stare dalla parte del lavoro, dei diritti contro le banche e il capitale finanziario. Quindi una scelta di campo del sindaco, noi gliela chiediamo con Claudio Grassi della Segreteria Nazionale di Rifondazione. Concerti gratuiti, noi proponiamo tre concerti gratuiti, non di Amici con la chitarra, proponiamo Giovanni Bloch che ha vinto il premio Luigi Tenco, proponiamo Francesco Di Bella della sua band di 24 Grana con Ibisca, proponiamo altri giovani emergenti quali Iepo di grande qualità, un concerto a sera, venerdì, sabato e domenica ovviamente gratuiti. Le giornate di sabato per discutere della città, servizi pubblici a Napoli in tempo di crisi con l'assessore Lucarelli, un dibattito sul futuro di Napoli la sera di sabato, la giornata di domenica per discutere la mattina della nostra storia, delle origini del patrimonio culturale e politico del Partito Comunista Italiano, ai lavoratori italiani, alla società italiana con il libro di Su Luigi Longo di Alessandro Ebel, il pomeriggio le esperienze di socialismo in giro per il mondo, il console del Venezuela, rappresentanti della Palestina, rappresentanti di Sriza, questa formazione politica che si è affermata in Grecia, momenti teatrali, gastronomia, prezzi popolari, noi più di questo non riusciamo a fare. Bene, chiudiamo. Aspettiamo tutti i cittadini democratici napoletani. Chiudiamo lo spot, veniamo ora alla politica nazionale, la vicenda della regione Lazio, ha fatto uscire la politica in generale con le ossa rotte, l'impressione è questa, quando c'è da spartirsi i soldi sono tutti amiconi e comparirli. Una vicenda che allontana ancora di più e che rischia di accomunare anche questa a tutte e tutti. Quale cittadino potrebbe mai credere che le disponibilità del Comune di Napoli sono l'1% del Consiglio regionale del Lazio? Credo che in questo evento tutti sono portati a pensare che sia tutto uguale, sarebbe difficile spiegargli che i consiglieri comunali di Napoli sostengono spese che sono 4-5 volte maggiori dei rimborsi esigui dei quali dispongono. E questo è molto grave, è molto grave che in un momento di così grave crisi economica non si abbia neanche il dubbio che non è consentito ad una persona, ad un cittadino, ad un amministratore guadagnare cifre che sono uguali a decine di volte di più delle persone che vanno a lavorare la mattina, che stentano, che faticano, che non ce la fanno a fine mese. Lo dicono tutti, ma noi più che dare l'esempio, più che prevedere norme dello Statuto nel quale nessuno del nostro partito potrà guadagnare oggi e domani più di 2.000 Euro al mese, più che poter rispondere in ogni momento a chiunque ce lo chiede, più di vivere nella massima sobrietà, più di fare politica ormai ricorrendo alla fotocopia e ricorrendo a strumenti molto, come dire, artigianali. Non sappiamo come contrastare questo vento che poi spazzerà via coloro che sono mossi da intenti autentici, spontanei, puliti e creerà la politica come appendice delle lobby e dei grandi interessi. E' sempre più diffusa l'opinione secondo la quale all'origine del male italiano, del male economico italiano, vi sono proprio le regioni. E' chiaro che questa idea io credo sia di per sé sbagliata, perché chi la propone forse desidera eliminare ogni immediazione nelle scelte. Altra cosa è il malcostume, ma soprattutto altra cosa è la politica senza i partiti intesi come gruppi collettivi di persone capaci di esercitare un indirizzo ed un controllo. oggi, e se guardiamo anche i dati dei consigli regionali dove si spende di più, il meridione sono consigli regionali dove si spende di meno, quindi vi è una controtendenza. Significa che le grandi lobby dei partiti, al centro e dal nord, finanziano se stessi e le loro finalità attraverso queste risorse. Gruppi ristretti di persone, come dire, esercitano un danno prima verso la cittadinanza e poi dopo verso gli stessi elettori che ripongono in essi una fiducia. Lo fanno perché non esiste più la dimensione collettiva di un partito, un organismo che si riunisce, un collegio di garanzia, qualcuno che possa mettere in discussione perché ha smesso da pochi minuti di lavorare e può dare il suo contributo disinteressato. Il grande partito comunista vedeva gli operai poter discutere alla pari insieme agli intellettuali, dire la loro, condurre le battaglie politiche per la trasparenza perché essi erano disinteressati. Questo sale democratico non esiste più, un gruppo di persone alimentano se stesse e alimentano la propria sopravvivenza in vita ed il proprio dominio. Bene, buon lavoro, sta suonando la campanella, Fucito deve andare in aula, a voi tutti grazie per la cortese attenzione, Tacquino Politico come sempre tornerà domani alla stessa ora.